Casale Marittimo si trova sulle colline antistanti la costa del mare. Le vecchie case mediovali in pietra esistono ancora oggi. Le stradine del centro con il suo campanile e le piazzette sono davvero molto belle, ottime per fare una passeggiata. Un borgo ben tenuto, pulito e ordinato, con strade in pietra. Passeggiando nel silenzio di queste stradine si trova la calma e un tempo per meditare. Il panorama è tipico della Toscana. Sole, mare, colline con olivi e vigne danno il sapore agricolo di questa zona.